Gilderoy Lockhart Il giorno dopo, comunque, Harry sorrise molto meno. Le cose cominciarono a mettersi male fin dalla prima colazione, nella sala grande. Le quattro lunghe tavole sotto il soffitto magico, quel giorno di un grigio tetro e nuvoloso, erano apparecchiate con suppiere di porridge, piatti di aringhe affumicate, montagne di pane tostato e vassoi di uova e bacon. Harry e Ron si sedettero al tavolo di Grifondoro, accanto a Hermione, che teneva aperta la sua copia di In viaggio con il vampiro, appoggiata contro una brocca di latte. Li salutò con un buongiorno, lievemente impettito, il che fece capire a Harry che ancora disapprovava il modo in cui erano arrivati. Neville Longbottom, al contrario, li accolse allegramente. Neville era un ragazzo dalla faccia rotonda, un tantino maldestro. Era una delle persone più smemorate che Harry avesse conosciuto. «La posta dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Penso che la nonna mi manderà un paio di cosette che ho dimenticato», disse. Harry aveva appena cominciato a mangiare il suo porridge quando, come era prevedibile, si udì un fruscio precipitoso e circa un centinaio di gufi irruppero, volteggiando per la sala e lasciando cadere lettere e pacchetti sulla folla dei ragazzi vocianti. Un pacchetto voluminoso e bitorsoluto rimbalzò sulla testa di Neville e dopo un istante qualcosa di grosso e grigio cadde nella brocca di Hermione, spruzzandoli tutti di latte e piume. «Herrol!» esclamò Ron, tirando fuori per una zampa il gufo tutto zuppo. «Herrol, svenuto, ricadde pesantemente sul tavolo, le zampe in aria e una busta rossa tutta bagnata stretta nel becco. «Oh no!» esclamò Ron con il fiato mozzo. «Non ti preoccupare, è ancora vivo», disse Hermione stuzzicando garbatamente il gufo con la punta del dito. «Non è questo che mi preoccupa, ma quella!» Ron indicò la busta rossa. A Henry sembrò una busta qualunque, ma Ron e Neville la stavano guardando come se dovesse esplodere da un momento all'altro. «Qual è il problema?» chiese Henry. «Mi ha... mi ha mandato una strillettera», disse Ron con un filo di voce. «È meglio che la apri, Ron», disse Neville in un timido sussurro. «Sarà peggio se non lo fai. Una volta mia nonna me ne ha mandata una e io ho fatto finta di niente e...» deglutì. «È stato orribile!» Lo sguardo di Henry passò dai loro volti pietrificati alla busta rossa. «Che cos'è una strillettera?» chiese, ma tutta l'attenzione di Ron era concentrata sulla busta, che aveva cominciato a emettere fumo dagli angoli. «Aprila!» insistette Neville. «Tra pochi minuti sarà tutto finito!» Ron allungò una mano tremante, prese la busta dal becco di Errol e la apri. Neville si tappò le orecchie con le dita. Dopo una frazione di secondo, Henry capì perché. Per un attimo pensò che la lettera fosse esplosa. Un ruggito riempì l'immensa sala, facendo cadere la polvere dai soffitti. «Rubare la macchina! Non mi sarei sorpresa se ti avessero espulso! Aspetta che ti prenda! Non hai pensato neanche per un istante a quel che abbiamo passato tuo padre e io quando abbiamo visto che non c'era più!» Le urla della signora Weasley, cento volte più acute del normale, fecero tremare piatti e cucchiai sul tavolo e rimbombarono assordanti tra le mura di pietra. Tutti i ragazzi nella sala si voltarono per vedere chi avesse ricevuto la strillettera e Ron sprofondò nella sedia, così che si vedeva spuntare soltanto la sua fronte paonazza. «Una lettera da Silente ieri sera! Ho creduto che tuo padre sarebbe morto per la vergogna! Non ti abbiamo educato perché tu ti comportassi in questo modo! Tu e Henry potevate morire!» Henry si era chiesto quando sarebbe saltato fuori il suo nome. Cercò con tutte le forze di far finta di non udire la voce che gli stava rompendo i timpani. «Assolutamente disgustata! In ufficio tuo padre verrà sottoposto a un'inchiesta! È tutta colpa tua! E se provi a fare un altro passo falso, ti riportiamo dritto filato a casa!» Cadde un silenzio assoluto. La busta rossa, caduta dalla mano di Ron, prese fuoco e si contorse fino a ridursi in cenere. Henry e Ron sedevano attoniti, come se gli fosse passata sopra l'onda di un maremoto. Alcuni risero e lentamente si levò di nuovo un brusio di voci. Hermione chiuse il libro e abbassò lo sguardo sulla testa di Ron. «Beh, non so cosa ti aspettassi, Ron, ma...» «Non dirmi che me lo sono meritato!» Sbottò lui. Henry allontanò il suo porridge. Si sentiva bruciare dai sensi di colpa. Il signor Weasley sarebbe stato sottoposto a un'inchiesta, dopo tutto quel che i Weasley avevano fatto per lui durante l'estate. Ma non ebbe tempo di rimuginare su questi pensieri. La professoressa McGonagall stava facendo il giro del tavolo di Grifondoro per distribuire gli orari delle lezioni. Henry prese il suo e vide che per cominciare avrebbero fatto due ore di erbologia con i tassofrasso. Henry, Ron e Hermione lasciarono insieme il castello, attraversarono l'orto e si diressero verso le serre, dove venivano custodite le piante magiche. Perlomeno, dalla strillettera, una cosa buona era venuta. Sembrava che Hermione pensasse che i suoi amici fossero stati puniti abbastanza ed era tornata amichevole come sempre. Avvicinandosi alle serre, videro il resto della classe in attesa della professoressa Sprout. I tre ragazzi avevano appena fatto in tempo a unirsi ai compagni quando lei apparve attraversando il prato a gran passi, accompagnata da Gilderoy Lockhart. Portava una bracciata di bende e con un'altra fitta al cuore, Henry vide da lontano che il salice schiaffeggiante aveva molti rami fasciati. La professoressa Sprout era una strega piccola e tarchiatella, con un cappello tutto rattoppato e la capigliatura scompigliata. In genere aveva i vestiti tutti sporchi di terra e le sue unghie avrebbero fatto svenire zia Petunia. Gilderoy Lockhart, invece, era inappuntabile nella sua svolazzante veste turchese, con le chiome dorate che brillavano sotto un cappello in tinta bordato d'oro, indossato in modo impeccabile. «Salve a tutti!» salutò Lockhart rivolgendo un sorriso radioso agli studenti di Riuniti. «Ho appena finito di mostrare alla professoressa Sprout il modo corretto di medicare un salice schiaffeggiante, ma non voglio che pensiate che io sia più esperto di lei in erbologia, è solo che nei miei viaggi mi è capitato di vedere molte di queste piante esotiche». «Serra numero tre, ragazzi!» disse la professoressa Sprout, che appariva decisamente contrariata e non allegra come al solito. Ci fu un mormorio di curiosità. Fino a quel momento avevano lavorato soltanto nella serra numero uno, ma nella numero tre c'erano piante molto più interessanti e pericolose. La professoressa Sprout si staccò dalla cintura una grossa chiave e aprì la porta. Harry percepì un odore di terra umida e di concime, che si mischiava al greve profumo di alcuni fiori giganti delle dimensioni di un ombrello che pensolavano dal soffitto. Stava per entrare dietro a Ron e a Hermione quando Lockhart tese una mano verso di lui. «Harry, volevo dirti una parola. Non le spiace, vero, professoressa Sprout, se glielo rubo per un paio di minuti?» A giudicare dall'espressione accigliata della professoressa, le spiaceva e come, ma Lockhart disse «Questo è lo scotto!» e le chiuse la porta della serra in faccia. «Harry», disse Lockhart scuotendo il capo e mettendo in mostra i suoi grandi denti candidi che brillavano al sole. «Harry, Harry, Harry!» Nel più completo sconcerto, Harry non disse niente. «Quando ho sentito dire, beh, naturalmente è stata tutta colpa mia, mi sarei mangiato le mani!» Harry non aveva la minima idea di che cosa intendesse. Stava per aprire bocca, ma Lockhart proseguì. «Non sono mai rimasto tanto scioccato. Far volare un'automobile fino a Hogwarts. Beh, naturalmente ho capito subito perché l'avevi fatto. Era lampante. Harry, Harry, Harry!» Era incredibile come riuscisse a mostrare uno per uno quei suoi denti smaglianti anche quando non parlava. «Ti ho fatto provare il gusto per le luci della ribalta, vero?» proseguì Lockhart. «Ti ho contagiato. Sei finito insieme a me sulla prima pagina del giornale e non vedevi l'ora che accadesse di nuovo. «Oh no, professore, vede...» «Herry, Harry, Harry!» ripetè Lockhart allungando un braccio e passandoglielo intorno alle spalle. «Io ti capisco. È naturale voler riassaporare una cosa che si è gustata per la prima volta. E io devo rimproverarmi per esserne stato la causa, perché dovevo prevedere che ti avrebbe dato alla testa?» «Ma vedi, giovanotto, non puoi cominciare a far volare le automobili per cercare di farti notare. Ti devi calmare, d'accordo?» «Avrai tutto il tempo per farlo quando sarai più grande.» «Sì, sì, lo so cosa stai pensando. Fa presto a parlare lui, che è già un mago famoso in tutto il mondo. Ma quando avevo dodici anni, non ero proprio nessuno, come te adesso. Anzi, direi che ero ancora meno che nessuno. Voglio dire che qualcuno ha già sentito parlare di te. Non è così? Tutte quelle storie a proposito di colui che non deve essere nominato.» Lanciò un'occhiata alla cicatrice a forma di saetta sulla fronte di Harry. «Lo so, lo so, che non è piacevole come vincere cinque volte di fila il premio per il sorriso più affascinante, indetto dal settimanale delle streghe, come è successo a me. Ma è comunque un modo per iniziare, Harry. È un modo per iniziare.» Gli strizzò l'occhio con aria complice e si allontanò a grandi passi. Harry rimase lì impalato per alcuni secondi. Poi, ricordandosi che avrebbe dovuto essere nella serra, aprì la porta ed entrò senza far rumore. La professoressa Sprout era in piedi dietro a un bancone poggiato su due cavalletti, al centro della serra. Sul bancone erano posate circa venti paia di paraorecchi di colore diverso. Quando Harry ebbe preso posto tra Ron e Ermione, l'insegnante disse «Oggi rinvaseremo le mandragole. Allora, chi sa dirmi le proprietà della mandragola?» Nessuno fu sorpreso nel vedere la mano di Ermione alzarsi per prima. «La mandragola è un'efficace ricostituente», disse Ermione, che come al solito sembrava aver inghiottito tutto il libro di testo. «Si usa per riportare nella condizione originale le persone che sono state trasfigurate o contro cui è stata scagliata una maledizione.» «Ottimo! Dieci punti per Grifondoro!» disse la professoressa Sprout. «La mandragola è un componente fondamentale della maggior parte degli antidoti, ma è anche pericolosa. Chissà dirmi perché!» La mano di Ermione mancò di poco gli occhiali di Harry. «Il pianto della mandragola è fatale a chiunque lo ascolti», disse prontamente. «Proprio così! Altri dieci punti!» disse la professoressa Sprout. «Ora, le mandragole che abbiamo qui sono tutte molto giovani!» Così dicendo, indicò una fila di vaschette profonde e tutti si sporsero in avanti per vedere meglio. Dentro, tutte in fila, ricrescevano un centinaio di pianticelle ricche di ciuffi color verde marcio. A Harry, che non aveva la minima idea di quel che intendesse Ermione quando aveva parlato del pianto della mandragola, non parvero particolarmente degne di nota. «Ognuno prenda un paio di paraorecchi», disse la professoressa Sprout. Ci fu un taffeluglio perché nessuno voleva finire con un vaporoso paraorecchi rosa. «Quando vi dirò di indossarli, assicuratevi di avere le orecchie completamente coperte», disse la professoressa. «Quando non sarà pericoloso toglierli, vi farò un cenno». «Bene, indossate i paraorecchi!» Harry eseguì il comando. I paraorecchi escludevano completamente qualsiasi suono. Anche la professoressa Sprout ne indossò un paio rosa e vaporoso. Si tirò su le maniche, afferrò saldamente una piantina cespugliosa e tirò forte. Harry emise un gemito di sorpresa che nessuno sentì. «Al posto delle radici, dalla terra, venne fuori un minuscolo neonato coperto di fango e terribilmente brutto. Le foglie gli spuntavano direttamente dalla testa. Aveva la pelle verdastra tutta chiazze ed era chiaro che stava urlando con quanta forza aveva nei polmoni. La professoressa Sprout prese un grosso vaso da sotto il tavolo e vi ficcò dentro la mandragola, sotterrandola con uno strato di concime nero e umido e lasciando fuori soltanto i ciuffi di foglie. Poi si scrollò la terra dalle mani, diede il segnale convenuto e si tolse i paraorecchi. «Poiché le nostre mandragole sono solo piantine da semenzaio, il loro pianto ancora non uccide», disse tranquilla, come se non avesse fatto niente di più emozionante che annaffiare una begonia. «Però possono mettervi fuori combattimento per molte ore e poiché sono sicura che nessuno di voi vuole perdersi il primo giorno di lezioni, quando ci lavorate? assicuratevi di indossare correttamente i paraorecchi. Quando sarà ora di interrompere vi farò il solito cenno. Quattro per ogni vaschetta, lì c'è una grossa scorta di vasi, il concime è nei sacchi, là, e fate attenzione alla tentacola velenosa. Sta mettendo i denti». Così dicendo colpì seccamente una pianta rosso scuro, tutta a culei, facendole ritirare i lunghi tentacoli che fino a quel momento le avevano strisciato sulle spalle a modi serpenti. A Harry, Ron e Hermione si unì un ragazzo riccioluto di tassofrasso, che Harry conosceva di vista, ma con cui non aveva mai parlato. «Justin Finch Fletchley», si presentò allegramente, stringendo la mano a Harry. «So chi sei, naturalmente, il famoso Harry Potter, e tu sei Hermione Granger, sempre la migliore in tutto». Hermione sorrise radiosa, mentre il ragazzo stringeva la mano anche a lei. «E tu, Ron Weasley, la macchina volante non era la tua?» Ron non sorrise. Era chiaro che aveva ancora impressa nella mente la strillettera. «Quel Lockhart è veramente eccezionale, non trovate?» disse Justin Garrulo, mentre cominciavano a riempire i vasi di concime allo sterco di drago. «È un tipo terribilmente coraggioso. Avete letto i suoi libri? Io sarei morto di paura se fossi stato intrappolato in una cabina telefonica da un lupo mannaro, ma lui no, ha mantenuto il sangue freddo e... zack! Semplicemente fantastico! Io sarei dovuto andare a Eton, sapete? Ma non so dirvi quanto sono felice di essere venuto qui. Naturalmente mia madre è rimasta un po' delusa, ma da quando le ho fatto leggere i libri di Lockhart credo che abbia cominciato a capire quanto sia utile avere in famiglia un mago bene addestrato. Dopodiché non ebbero molte altre occasioni di parlare. Avevano indossato di nuovo i paraorecchi e dovevano concentrarsi sulle mandragole. A sentire la professoressa Sprout sembrava una cosa estremamente facile, ma non lo era affatto. Alle mandragole non piaceva essere tirate fuori dalla terra, ma non sembrava piacergli neanche tornarci dentro. Si dimenavano, scalciavano, battevano i piccoli pugni e digrignavano i denti. Harry passò dieci minuti buoni a cercare di cacciarne una particolarmente grassa in un vaso. Alla fine della lezione Harry, come gli altri, era sudato, dolorante e tutto sporco di terriccio. Fecero ritorno al castello per darsi una lavata veloce e poi i grifondoro si affrettarono per la lezione di trasfigurazione. Le lezioni della professoressa McGonagall erano sempre pesanti, ma quel giorno fu particolarmente difficile. Tutto quel che Harry aveva imparato l'anno prima sembrava essergli uscito completamente dalla testa durante l'estate. Quel che gli veniva richiesto quella mattina era di trasformare uno scarafaggio in un bottone, ma l'unica cosa che riuscì a fargli fare fu un bel po' di ginnastica, dato che l'insetto scorrazzava sulla scrivania, evitando la sua bacchetta. Nel frattempo Ron era alle prese con problemi assai peggiori. Aveva aggiustato alla meglio la sua bacchetta con del Magiscotch preso in prestito, ma sembrava danneggiata irreparabilmente. Di tanto in tanto scoppiettava, lanciava scintille nei momenti più impensati e ogni volta che Ron la usava per trasfigurare il suo scarafaggio, quello gli spruzzava addosso un puzzolente fumo grigio. Dato che questo gli impediva di vedere quel che faceva, Ron schiacciò inavvertitamente il suo scarafaggio con il gomito e quindi dovette chiederne un altro. La professoressa McGonagall non fu molto contenta. Harry fu decisamente sollevato nell'udire la campanella del pranzo. Si sentiva il cervello come una spugna strizzata. Tutti uscirono in fila dalla classe tranne lui e Ron, che stava sbatacchiando furiosamente la bacchetta sul banco. Stupido! Inutile! Aggeggio! Scrivi a casa e fatene mandare un'altra, suggerì Harry, visto che la bacchetta emetteva una raffica di esplosioni come petardi. Ma sì, per ricevere indietro un'altra strillettera, disse Ron ficcando nella cartella la bacchetta che ora si bilava. È colpa tua se la bacchetta si è rotta! Scesero a pranzo, dove l'umore di Ron non migliorò di certo quando Hermione mostrò la manciata di perfetti bottoni da soprabito da lei prodotti durante la lezione di trasfigurazione. «Cosa abbiamo questo pomeriggio?» chiese Harry, affrettandosi a cambiare argomento. «Difesa contro le arti oscure», rispose Hermione tutto d'un fiato. «E perché?» chiese Ron strappandole di mano l'orario. «Ha incorniciato tutte le lezioni di Lockhart con dei cuoricini!» Hermione riafferrò l'orario, arrossendo violentemente. Terminato il pranzo, uscirono in cortile. Il cielo era nuvoloso. Hermione si sedette su un gradino di pietra e sprofondò di nuovo nella lettura di «In viaggio con il vampiro». Harry e Ron rimasero a parlare di Quidditch per qualche minuto, prima che Harry si rendesse conto che qualcuno lo stava osservando attentamente. Alzando lo sguardo, scorse il ragazzo mingerlino dai capelli color topo che la sera prima aveva visto indossare il cappello parlante. Lo fissava come pietrificato. Si teneva stretta quella che sembrava una comune macchina fotografica da babbani e quando Harry lo guardò diventò paonazzo. «Tutto bene, Harry. Io sono... sono Colin Crivey», disse ansimando e azzardando un passo avanti. «Anch'io sono di Grifondoro. Pensi... sarebbe possibile... posso scattarti una foto?» chiese sollevando speranzoso la macchina fotografica. «Una foto!» ripetè Harry senza capire. «Così potrò dimostrare di averti incontrato», disse Colin Crivey tutto eccitato, avvicinandosi ancora un poco. «Io so tutto di te. Tutti ne parlano. Che sei sopravvissuto quando tu sai chi cercò di ucciderti. E che lui è scomparso e tutto il resto. E che tu hai ancora sulla fronte una cicatrice a forma di saetta. E qui i suoi occhi scrutarono rapidamente l'attaccatura dei capelli di Harry. «E un ragazzo del mio dormitorio ha detto che se svilupperò la pellicola nella pozione giusta, le foto si muoveranno!» Colin tirò un profondo respiro, fremette dall'emozione e proseguì. «E' meraviglioso qui, non è vero? Io non ho mai saputo che tutte le strane cose che riuscivo a fare erano magiche, fino a che non ho ricevuto la lettera da Hogwarts. Mio padre fa il lattaio e neanche lui voleva crederci. Per questo sto scattando montagne di foto da mandargli. E sarebbe davvero stupendo averne una tua!» Guardò Harry con aria implorante. «Forse la potrebbe scattare il tuo amico, così io mi metto accanto a te. E poi me la potresti firmare.» «Foto autografate! Distribuisci foto autografate, Potter?» Nel cortile risuonò sonora e aspra la voce di Draco Malfoy. Si era fermato proprio dietro a Colin, scortato, come sempre quando era a Hogwarts, da quei due energumeni a taccabrighe di Crabbe e Goyle. «Tutti in fila!» tuonò Malfoy alla folla. «Harry Potter distribuisce foto con l'autografo!» «No, non è vero!» disse Harry furibondo stringendo i pugni. «Chiudi il becco, Malfoy!» «E' solo che sei geloso!» Si sentì la vocina di Colin, che tutto intero era grosso più o meno quanto il collo di Crabbe. «Geloso?» disse Malfoy, che ora non aveva più bisogno di gridare, dato che metà del cortile lo stava ascoltando. «E di che cosa?» «Grazie tante, ma non voglio certo una stupida cicatrice sulla fronte. Per quanto mi riguarda, non penso che farsi spaccare la testa in due renda così speciali.» Crabbe e Goyle ritacchiavano come due ebeti. «Ma vai a mangiare rumache, Malfoy!» disse Ron arrabbiato. Crabbe smise di ridere e cominciò a strofinarsi con aria minacciosa le nocche, grandi come castagne. «Attento a te, Weasley!» fece Malfoy con una smorfia. «Non vuoi cacciarti in un altro guaio, vero? Altrimenti la tua mammina dovrà venire a prenderti e a portarti via da scuola.» E con voce acuta e penetrante proseguì «Se provi a fare un altro passo falso!» A queste parole, un gruppetto di serpeverde del quinto anno scoppiò a ridere sonoramente. «Ehi, Potter! C'è Weasley che vorrebbe una foto con l'autografo!» ghignò Malfoy. «Varrebbe molto più di tutta casa sua!» Ron tirò fuori la bacchetta rattoppata, ma Ermione chiuse il libro con un colpo secco e bisbigliò. «Stai attento!» «Cosa succede qui?» Gilderoy Lockhart si stava avvicinando con le vesti turchesi svolazzanti. «Chi è che sta distribuendo autografi?» Harry aveva cominciato a spiegarsi, ma fu interrotto da Lockhart, che gli mise un braccio intorno alle spalle e tonò con voce gioviale. «Non c'era bisogno di chiederlo! Ancora tu, Harry!» Incollato al fianco di Lockhart e rosso per l'umiliazione, Harry vide Malfoy sgattaiolare tra la folla con il suo solito ghigno. «Allora coraggio, signor Crivee!» disse Lockhart rivolgendo a Colin un sorriso radioso. «Una foto a tutti e due! Non potrei immaginare una cosa più giusta di questa e te la firmeremo entrambi!» Tutto confuso, Colin afferrò maldestramente la macchina fotografica e scattò la foto proprio nel momento in cui suonava la campanella delle lezioni pomeridiane. «Andate, svelti!» disse Lockhart rivolto agli studenti e si incamminò verso il castello con Harry ancora attaccato al fianco, che avrebbe dato qualsiasi cosa per saper fare un incantesimo evanescente. «A buon intenditor poche parole, Harry», gli disse Lockhart in tono paterno mentre entravano nell'edificio per la porta laterale. «Io ti ho coperto con il giovane Crivee. Essendoci anch'io nella foto, i tuoi compagni non penseranno che tu ti creda chissà chi». Sordo al balbettio di Harry, Lockhart lo trascinò lungo un corridoio gremito di studenti curiosi e poi su per una scala. «Voglio soltanto dirti che distribuire foto autografate in questa fase della tua carriera non è molto sensato. Anzi, per parlare chiaro, ti fa sembrare un po' un pallone gonfiato, Harry. Verrà, verrà il tempo in cui, come me, dovrai tenere una pila di foto a portata di mano dovunque vai, ma...» fece una risatina. «Non mi pare che tu sia già arrivato a quel punto». Avevano raggiunto la classe di Lockhart, che finalmente lasciò andare il ragazzo. Harry si riassestò i vestiti e andò a sedersi molto in fondo, dove fu occupatissimo a impilare tutti e sette i libri di Lockhart davanti a sé, in modo da risparmiarsi la vista dell'autore in carne e ossa. Il resto della classe entrò chiacchierando e Ron e Ermione andarono a sedersi accanto a Harry. «Ti si potrebbe friggere un uovo sulle guance», disse Ron. «Speriamo che Crivee non incontri Ginni, altrimenti mettono su un fan club di Harry Potter». «Chiudi il becco», sbottò Harry. L'ultima cosa di cui aveva bisogno era che Lockhart sentisse nominare un fan club di Harry Potter. Quando tutta la classe fu entrata, Lockhart si schiarì rumorosamente la gola e cadde il silenzio. Lui si avvicinò ai banchi, prese la copia del suo Trekking con il Troll dal banco di Neville Longbottom e la sollevò per mostrare il proprio ritratto ammiccante in copertina. «Io», disse indicandolo e ammiccando lui stesso, «Gilderoy Lockhart, Ordine di Merlino, terza classe, membro onorario della Lega per la Difesa contro le Arti Oscure e cinque volte vincitore del premio per il sorriso più affascinante promosso dal settimanale delle streghe, ma lasciamo stare. «Non mi sono certo liberato della malefica Banshee Bandon facendole un sorriso». Aspettò che tutti ridessero, ma soltanto poche labbra si incurvarono leggermente. «Vedo che tutti avete la serie completa dei miei libri. Molto bene. Oggi pensavo di iniziare con un piccolo quiz. Niente di cui preoccuparsi, solo per verificare con quanta attenzione li avete letti, quanto avete assorbito». Quando ebbe distribuito i testi della prova, tornò davanti ai banchi e disse, «Avete trenta minuti. Pronti? Via!». Harry guardò i suoi fogli e lesse. «1. Qual è il colore preferito di Gilderoy Lockhart?» «2. Qual è l'ambizione segreta di Gilderoy Lockhart?» «3. Secondo voi, qual è il risultato più importante conseguito finora da Gilderoy Lockhart?» E continuava così, per altre tre pagine, fino all'ultima domanda. «54. Quando cade il compleanno di Gilderoy Lockhart? E qual è il regalo ideale per lui?» Mezz'ora dopo, Lockhart raccolse i fogli e li esaminò davanti a tutta la classe. «Ho ho! Quasi nessuno ricordava che il mio colore preferito è il lilla. Lo dico in Un inverno con lo Yeti. E poi alcuni di voi dovranno leggere con più attenzione Luna di miele con il lupo mannaro. Nel capitolo 12 dico chiaramente che il mio regalo di compleanno ideale sarebbe l'armonia tra il popolo dei maghi e dei non maghi, anche se non rifiuterei una bella bottiglia di whisky incendiario Ogden stravecchio.» Lanciò alla scolaresca un'altra occhiatina maliziosa. Ron lo fissava con un'espressione incredula. Simus Finnegan e Dean Thomas, che sedevano ai primi banchi, erano scossi da sussulti di riso represso. Hermione, dal canto suo, ascoltava Lockhart con attenzione rapita e trasalì quando lui pronunciò il suo nome. «Invece la signorina Hermione Granger sapeva che la mia ambizione segreta è di liberare il mondo dal maligno e commercializzare la mia gamma completa di pozioni per la cura dei capelli. Brava ragazza! E infatti voltò il foglio del suo compito. Ha ottenuto il massimo dei voti! Dov'è la signorina Hermione Granger?» Hermione alzò una mano tremante. «Ottimo!» sorrise Lockhart. «Veramente ottimo! Dieci punti per Grifondoro! E ora al lavoro!» Si chinò per raccogliere una grossa gabbia coperta da un panno e la posò sulla cattedra. «Ora un avvertimento! Il mio compito è quello di armarvi contro le più orrende creature note alla stirpe dei maghi. In questa stanza potrete trovarvi a dover affrontare le vostre peggiori paure. Sappiate soltanto che niente di male potrà accadervi fin tanto che io sono qui. Vi chiedo solo di rimanere calmi.» Suo malgrado, Harry si sporse oltre la pila di libri per guardare meglio la gabbia. Lockhart mise una mano sul panno. Ora Dean e Simus avevano smesso di ridere. Neville, nel suo banco in prima fila, si era fatto piccolo piccolo. «Devo chiedervi di non gridare», disse Lockhart abbassando la voce. «Potrebbe aizzarli». Mentre la classe tratteneva il respiro, Lockhart tolse la coperta. «Ebbene sì», disse in tono drammatico. «Pixi della cornovaglia appena catturati». Simus Finnegan non riuscì a controllarsi. Sbottò in una risata che neanche Lockhart riuscì a prendere per un grido di terrore. «Ebbene», sorrise a Simus. «Beh, non sono... non sembrano molto... pericolosi», disse Simus soffocando dalle risate. «Se fossi in te non ne sarei tanto sicuro», disse Lockhart scuotendo un dito a monitore in direzione del ragazzo. «Possono essere tipetti discretamente diabolici». I pixi erano folletti di colore blu elettrico, alti circa venti centimetri, con visetti appuntiti e voci così penetranti che era come sentire il cicaleccio di un nugolo di pappagallini. Appena tolta la coperta, avevano cominciato a ciarlare, e a saettare di qua e di là, scuotendo le sbarre e facendo le boccacci a quelli seduti più vicino. «Bene», disse Lockhart ad alta voce. «Vediamo che cosa siete capaci di farne», e aprì la gabbia. Ci fu un pandemonio. I folletti schizzavano in tutte le direzioni come missili. Due di loro afferrarono Neville per le orecchie e lo sollevarono in aria. Molti si fiondarono contro le finestre, innaffiando di vetri rotti gli studenti in ultima fila. Gli altri si impegnarono a distruggere la classe meglio di un rinoceronte infuriato. Afferrarono i calamai e spruzzarono inchiostro dappertutto, ridussero a brandelli libri e fogli di carta, strapparono i quadri dalle pareti, rovesciarono il cestino della carta, afferrarono bolse e libri e li scaraventarono fuori dalle finestre rotte. Nel giro di pochi minuti, metà della classe si riparava sotto i banchi e Neville oscillava appeso al candelabro sul soffitto. Su, muovetevi, radunateli, radunateli, in fondo sono soltanto folletti, gridava Lockhart. Si tirò su le maniche, brandì la bacchetta e ruggì. Peschi pixi, pester nomi! Non accadde assolutamente nulla. Uno dei folletti germì la bacchetta di Lockhart e scaraventò anche quella fuori dalla finestra. Lockhart strabuzzò gli occhi e si tuffò sotto la cattedra, evitando per un pelo di essere schiacciato da Neville che si schiantò al suolo perché il candelabro aveva ceduto. La campanella suonò e ci fu un fuggi-fuggi verso l'uscita. Nella calma relativa che seguì, Lockhart si rialzò in piedi, vide Harry, Ron e Hermione che avevano quasi raggiunto la porta e disse. Bene, affido a voi il compito di acchiappare quelli che sono rimasti fuori e di rimetterli in gabbia. Li sorpassò come una saetta e si chiuse rapidamente la porta alle spalle. Roba da non credere, tuonò Ron mentre un folletto gli mordeva un orecchio. Vuole semplicemente farci fare esperienza sul campo, disse Hermione mentre immobilizzava in un colpo due folletti con un astuto incantesimo congelatore e li rimetteva nella gabbia. Esperienza sul campo, disse Harry cercando di agguantare un folletto che si teneva fuori tiro e faceva le linguacce. Hermione, te lo dico io, non aveva la più pallida idea di quel che stava facendo. Sciocchezze, disse Hermione. Hai letto i suoi libri, guarda tutte le cose strabilianti che ha fatto. Che dice di aver fatto, bofonchiò Ron.